Da domani, mercoledì 18 novembre, tutto l'Abruzzo sarà zona rossa. Con l'approvazione del ministro della Salute e Speranza, il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza 102 che istituisce una sorta di lockdown light nella nostra regione fino al 3 di dicembre. 21 i parametri in base ai quali è determinato il colore delle zone. In Ambruzzo l'indice di contagiosità RT si è abbassato negli ultimi giorni sotto la soglia critica dell'1,5, attestandosi attorno all'1,3. E anche la percentuale dei positivi rispetto ai test è in linea con la media nazionale. Qui a determinare la zona rossa quindi non è stata l'irresponsabilità degli abruzziesi o chissà quale negazionista, ma piuttosto il nostro sistema sanitario troppo fragile per reggere la seconda ondata, il cui apparato pubblico è stato depredato negli ultimi decenni sia dalla destra che dalla sinistra. In Italia infatti negli ultimi dieci anni sono stati sottratti ben 37 miliardi alla sanità pubblica. In Abruzzo c'è urgenza di personale posti letto in terapia intensiva, ma quest'estate non è stato fatto pressoché nulla per prepararsi alla prevista seconda ondata. E ora che questa si abbatte in pietosa sugli abruzzesi e ci ritroviamo in zona rossa, appare fin troppo facile per i governanti scaricare la colpa sui governati. Ma indietro non si torna da domani ulteriori restrizioni, così come prevede il ICM del 3 novembre. Ed ecco cosa cambia. Vietato spostarsi liberamente anche all'interno del proprio comune di residenza, a meno che non si abbiano validi motivi di lavoro o di salute che dovranno essere autocertificati. Sono però messe le passeggiate e l'attività motoria, purché si svolga all'aperto, in forma individuale e nei pressi della propria abitazione. Palestre e piscine però rimangono chiuse, così come ora chiudono anche i centri sportivi. Sono sospese inoltre tutte le competizioni agonistiche, ad eccezione di quelle riconosciute, di interesse nazionale, dal CONI e dal CIP. Sempre chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, mentre l'asporto rimane consentito fino alle 22, mentre per le consegne a domicilio non ci sono limiti di orario. E rimangono chiusi anche cinema, teatri, mostre e non sono consentiti nemmeno ai mercatini di Natale. Ancora aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, così come parrucchieri e barbieri, ma non i centri estetici. La popolazione inoltre è sollecitata a lavorare il più possibile a distanza, tramite smart working, o di usufruire di ferie permessi. E ieri vi è stato un ampio dibattito a proposito delle scuole. Il comitato tecnico-scientifico si è spaccato riguardo la possibilità di chiuderle tutte, comprese quelle dei più piccoli. Ma alla fine, Marsilio ha deciso, rimarranno aperte le scuole dell'infanzia, quelle elementari e le prime medie, mentre dovranno ricorrere alla didattica a distanza anche gli studenti di seconda e terza media, così come è previsto d'altronde per tutte le zone rosse d'Italia.